Appassionati di volley, insegnatevi sul calendario. Questa data, venerdì 9 settembre all'ora 18, quindi tra una settimana, alla spessa arena di Belluno la Darold Logistics di Serie A 3 maschile affronterà il Trentino Volley. Il club della Superlega di Serie A maschile se la vedrà quindi con la compagine bellunese del nuovo tecnico Gianluca Colussi. Un incrocio spettacolare che peraltro avrà l'ingresso gratuito al palazzetto di Lambioi. Sarà il primo confronto nel precampionato per il gruppo trentino di coach Angelo Lorenzetti, il quale non potrà disporre di 5 atleti protagonisti ai mondiali con le rispettive nazionali, i tre azzurri Lavia, Michieletto e Sbertoli e i due centrali serbi Lisina Kepodrashanin. A questi si aggiunge pure il libero Gabriele Laurenzano, impegnato con l'Italia under 20 in vista dell'europeo di categoria. Ma i motivi di interesse restano innumerevoli, d'altronde quando capita di vedere a due passi da casa lo schiacciatore bulgaro Matei Kaczynski, senza dimenticare agli altri talentuosi suoi compagni di squadra. E non meno suggestiva sarà la presenza in roster di Alessandro Bristot, talento bellunese facente parte delle giovanili del Trentino Volley. Insomma, ci sarà da divertirsi e imparare per un Adarold che sogna un giorno di approdare proprio nella massima serie.